La guida in stato di ebrezza è nella norma rispetto ai dati nazionali, ma quello che maggiormente incide sul nostro territorio negli incidenti stradali degli ultimi tempi, alcuni dei quali mortali ma altri non meno gravi, è purtroppo la guida con uso scorretto del cellulare, dove tuttavia in alcune zone non manca anche l'eccesso di velocità. Così il questore di Salerno Giancarlo Conticchio nell'ambito del potenziamento dei servizi di controllo anche per questo fine settimana sulle strade del territorio salernitano, che saranno attivati dai poliziotti delle volanti e della polizia stradale, supportati anche dalla polizia municipale. L'aumento dell'incidentalità impone un rinnovato impegno nei controlli dedicato al contrasto serrato dell'utilizzo dei telefonini. Sono controlli che proseguono e proseguiranno. Noi stiamo puntando molto con una campagna della Polizia di Stato, quello dell'uso corretto del cellulare alla guida e nei giorni scorsi sono state elevate 22 contravenzioni a automobilisti che guidavano in barba delle disposizioni, col cellulare apertamente. Quindi l'invito che faccio è quello di essere attenti nella guida perché abbiamo un lungomare molto lungo che invita alla velocità. Però i controlli li stiamo facendo insieme alla Polizia Stratale e alla Polizia Municipale e i risultati li stiamo ottenendo. Il problema è educare il cittadino all'uso corretto della guida. Soprattutto tra i giovani c'è una scarsa attenzione al corso della strada, innanzitutto si guida in maniera distratta, questo è uno dei motivi principali che negli ultimi tempi fa registrare nella città di Salerno un'incidenza di incidenti stradali molto alta. Sì, purtroppo è il corretto uso del cellulare che non viene applicato perché c'è il bluetooth, io dico bisogna rispondere al cellulare e al bluetooth e non leggere i messaggi mentre si guida. Non fatevi mandare i messaggi sonori ma fatevi chiamare. Mi tiene che ci sia anche un incremento di guida in stato di ebrezza o dopo aver fatto uso di sostanze? No, siamo nella norma, diciamo che la guida in stato di ebrezza è un fatto sì preoccupante però quello che incide è lo scorretto utilizzo del cellulare.